Buona giornata a tutti. Anche nella pagina di Vangelo che ascoltiamo quest'oggi compaiono Simon Pietro e il discepolo che Gesù amava. E il discepolo che Gesù amava a riconoscere da lontano Gesù e il Signore. Abbiamo bisogno anche noi di riconoscere il Signore, abbiamo bisogno anche noi di incontrare dei testimoni autentici che ci mostrino la presenza del Signore risorto nella nostra vita. Ma anche da Pietro siamo chiamati ad imparare, ad imparare il suo coraggio di buttarsi in acqua per raggiungere la riva, per vedere ancora una volta il Signore risorto. E' grande la fede di Pietro, la fede di un uomo che sa affidarsi completamente alla parola del Signore Gesù. Buona giornata a tutti. Grazie.